Dal libro della Genesi Dio disse Facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza Domin sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo sul bestiame su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra e Dio creò l'uomo a sua immagine a immagine di Dio lo creò maschio e femmina li creò Dio li benedisse e Dio disse loro siate fecondi e moltiplicatevi riempite la terra e soggiogatela dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra Dio disse ecco io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo a tutti gli animali selvatici a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita io do in cibo ogni erba verde e così avvenne Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona e fu sera e fu mattina e fu mattina sesto giorno così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e ci sono nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando rendi salda Signore l'opera delle nostre mani prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati da sempre e per sempre tu sei o Dio rendi salda Signore l'opera delle nostre mani tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici ritornate figli dell'uomo mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato come un turno di veglia nella notte rendi salda Signore l'opera delle nostre mani insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio ritorna Signore fino a quando abbi pietà dei tuoi servi rendi salda Signore l'opera delle nostre mani saziaci al mattino con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore i loro figli rendi salda Signore l'opera delle nostre mani dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Gesù venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi non è costui figlio del falegname e sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo Giuseppe Simone e Giuda e le sue sorelle non stanno tutte da noi da dove gli vengono allora tutte queste cose ed era per loro motivo di scandalo ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua e lì a causa della loro incredulità non fece molti prodigi non fece molti prodigi non fece molti prodigi grazie a tutti